Esdra. Nel primo anno del regno di Ciro, re di Persia, il Signore realizzò quel che aveva annunziato per bocca del profeta Geremia. Egli mosse dunque lo spirito di Ciro a diffondere in tutto il suo regno, a voce e per iscritto, questo editto. Così decreta Ciro, re di Persia. Il Signore Dio del Cielo ha dato in mio potere tutti i regni della terra e mi ha incaricato di costruirgli un Tempio a Gerusalemme, città della Giudea. Perciò mi rivolgo a tutti quelli che appartengono al suo popolo. Tornate a Gerusalemme di Giudea per ricostruire il Tempio del Signore Dio di Israele, in Gerusalemme, che è la sua città. Il vostro Dio vi accompagni. In ogni regione i superstiti che decidono di partire siano aiutati dagli abitanti del posto. Essi daranno loro argento, oro, beni e bestiame e inoltre offerte volontarie per il Tempio di Dio a Gerusalemme. Allora i capi famiglie delle tribù di Giudea e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, accolsero l'invito. Erano tutti quelli a cui Dio aveva messo in cuore il desiderio di tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio del Signore. Tutti i vicini li aiutarono, dando loro generosamente oggetti d'argento, d'oro, beni e bestiame e molti altri regali, senza contare le offerte volontarie. Il re Ciro, da parte sua, restituì gli oggetti sacri del Tempio del Signore, quello che il re Nabucodonosor aveva portato via da Gerusalemme per collocarli nel Tempio del suo Dio. Ciro diede questo incarico al tesoriere Mitridate. Ecco l'inventario che Mitridate fece alla presenza di Sès Bassar, governatore della Giudea. Trenta vassoi d'oro, mille vassoi d'argento, ventinove coltelli, trenta coppe d'oro, quattrocento coppe d'oro di minor pregio, mille altri oggetti. Totale degli oggetti d'oro e d'argento cinquemilaquattrocento. Quando gli esoli tornarono da Babilonia a Gerusalemme, Sès Bassar curò il trasporto di tutto. Molti originari della Giudea, appartenenti alle famiglie che il re Nabucodonosor aveva deportato, tornarono dall'esilio, ciascuno nella sua città, o a Gerusalemme, o in altre città della Giudea. Erano guidati da Zorobabele, Giosuè, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoccheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Recun e Ba'ana. Ecco l'elenco degli israeliti rimpatriati. discendenti di Paros, 2172, discendenti di Sefatia, 372, discendenti di Arach, 775. discendenti di Pacat Moab, cioè i discendenti di Giosuè e di Joab, 2812, discendenti di Elam, 1254, discendenti di Zattu, 945, discendenti di Zaccai, 760, discendenti di Ba'ani, 642, discendenti di Be'ba'i, 623, e discendenti di Asgad, 1222, discendenti di Adenicam, 676, discendenti di Bigvai, 2056, discendenti di Adim, 454, discendenti di Ater, cioè Ezechia, 98, discendenti di Be'zai, 323, discendenti di Iora, 112, discendenti di Kasum, 223, discendenti di Gibar, 95. Elenco dei rimpatriati originari di varie località, Betlem, 123, Netofà, 56, Anatot, 128, Asnavet, 42, Kiriat Ye'arim, Shefira e Be'erot, 743, Rama e Geba, 621, Mikmas, 122, Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, Elam, 1254, Karim, 320, Lod, Kadid e Ono, 725, Jericho, 345, Sena A, 3630, Elenco dei sacerdoti rimpatriati, Gruppo di Jedahia, discendente da Giosuè, 973, Gruppo di Im, 1052, Gruppo di Pascur, 1247, Gruppo di Karim, 1017, Elenco dei leviti rimpatriati, Gruppo di Kadmiel, Binui e Odavia, discendenti di Giosuè, 74, Cantori, discendenti di Asaf, 128, Portinai, discendenti di Salum, Ater, Talmon, Akub, Catità e Sobai, in tutto 139, 139, Addetti al Tempio, rimpatriarono alcune persone delle famiglie di, Tzikah, Kazufa, Tabaut, Heros, Sia'a, Padon, Lebana, Kagaba, Akub, Kagab, Samlai, Kanan, Gidel, Gakar, Reaia, Rezin, Nekoda, Gazzam, Uzzah, Paseach, Besai, Azna, Meunim, Nefuzim, Bakbuk, Kafuka, Karkur, Bazlut, Mechida, Karsa, Barkos, Sisara, Temach, Neziach, Katifa. Discendenti dei Servi di Salomone, erano rimpatriate alcune persone delle famiglie di, Sotai, Assoferet, Peruda, Ya'ala, Darkon, Gidel, Sefatia, Katil, Pokereta Zebaim, Ami. In totale, gli addetti al Tempio e i discendenti dei Servi di Salomone, rimpatriati, furono 392. Alcuni rimpatriati provenienti da Tel Melach, Tel Karsa, Cherubaddan e Imer, non poterono dimostrare di essere discendenti di israeliti. Comprendevano 652 uomini, discendenti da Delaia, Tobìa e Necobà. Alcuni sacerdoti si trovavano in una situazione simile. Erano i discendenti di Coobahia, Akuts, Barzilai. Quest'ultimo era stato chiamato così perché aveva preso il nome del suocero quando aveva sposato la figlia di un certo Barzilà del territorio di Galaad. Essi cercarono i loro registri genealogici, ma inutilmente, perché furono esclusi dal sacerdozio. Anche il governatore confermò questa decisione. Essi non potevano ricevere le offerte sacre, ma dovevano attendere che un sacerdote chiarisse la loro posizione per mezzo degli Urim e Tummim. Il numero totale dei rimpatriati fu di 42.360. Inoltre vi erano 7.337 tra servi e serve e 200 cantori tra uomini e donne. I rimpatriati possedevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli e 6.720 asini. Quando arrivarono sul luogo dove prima sorgeva il Tempio di Gerusalemme, alcuni capifamiglia fecero offerte volontarie per ricostruirlo nello stesso posto. Ciascuno contribuì secondo le sue possibilità. In totale donarono al fondo per la ricostruzione quasi 5 quintali d'oro, circa 30 quintali d'argento e 100 tuniche sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, gli addetti al Tempio e gli altri rimpatriati si stabilirono ciascuno nella propria città. In tal modo tutti gli israeliti erano ritornati nei luoghi di origine. Nel settimo mese dell'anno gli israeliti si erano ormai sistemati nelle diverse città e poterono convocare un'assemblea generale a Gerusalemme. Allora Gesù è figlio di Iosedach con gli altri sacerdoti della sua famiglia e Zorobabele figlio di Sealtiel con i suoi parenti ricostruirono l'altare del Dio di Israele per offrire sacrifici come è scritto nella legge di Mosè uomo di Dio. Avevano paura della gente del luogo perciò costruirono subito l'altare laddove sorgeva prima e su di esso offrirono al Signore sacrifici del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne come era prescritto. In ognuno dei sette giorni della festa offrirono sacrifici stabiliti. Da allora in poi continuarono a offrire i vari sacrifici ogni giorno. All'inizio del mese nelle feste del Signore e ogni volta che qualcuno faceva offerte volontarie al Signore. Cominciarono il primo giorno del settimo mese ma le fondamenta del Tempio non erano ancora state poste. Allora la gente diede denaro per assumere tagli a pietre e carpentieri. Si raccolsero viveri, bevande e olio per mandarli ai mercanti di sidone e di tiro in cambio di legname di cedro del Libano da trasportare per mare fino a Giaffa. Per fare tutto questo avevano ricevuto l'autorizzazione dal re di Persia. Cominciarono la ricostruzione un anno e due mesi dopo il loro ritorno al luogo del Tempio. Si misero all'opera Zorobabele, figlio di Sealtiel, Giosuè figlio di Osadak e i loro parenti, i sacerdoti, i leviti e tutti quelli che erano tornati a Gerusalemme dall'esilio. I leviti che avevano più di vent'anni furono incaricati di dirigere i lavori. Giosuè, i suoi figli e i fratelli, Kazmiel, Benui e Odavia sorvegliavano insieme i lavori del Tempio. Con loro c'erano anche i leviti discendenti di Kamadad, i loro figli e i loro fratelli. Quando si gettarono le fondamenta del Tempio del Signore intervennero i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con le trombe e i leviti discendenti di Asaf con i cembali per innalzare inni al Signore come un tempo aveva ordinato Davide re di Israele. A cori alterni cantavano l'inno Il Signore è buono, eterno è il suo amore per Israele. Tutti gridavano di gioia e ringraziavano il Signore perché venivano gettate le fondamenta del Tempio. Molti sacerdoti, leviti e capi famiglia anziani si ricordavano del Tempio precedente. Vedendo le fondamenta del nuovo Tempio lì davanti ai loro occhi piangevano commossi. Molti altri invece gridavano di gioia ed era impossibile distinguere tra grida di gioia e di pianto perché il clamore della folla era tale che lo si poteva udire da lontano. I nemici della tribù di Giuda e Beniamino vennero a sapere che i rimpatriati stavano ricostruendo il Tempio del Signore Dio di Israele. Allora si presentarono a Zorobabele e ai capi famiglia e dissero Lasciateci partecipare alla ricostruzione del Tempio. Anche noi infatti onoriamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici fin da quando Assaradon re di Assiria ci ha fatto immigrare in questa terra. Ma Zorobabele Giosuè e gli altri capi famiglia risposero La ricostruzione del Tempio non vi riguarda tocca solo a noi costruirlo per il Signore Dio di Israele. Così ci ha ordinato Ciro re di Persia. La gente del luogo allora cercò di scoraggiare e di intimorire il popolo della Giudea per far interrompere la costruzione. Così dal tempo di Ciro fino al regno di Dario re di Persia continuarono a corrompere con denaro i funzionari del re per mandare a monte il progetto degli israeliti. All'inizio del regno di Cerse i nemici dei rimpatriati scrissero una lettera di accusa contro gli abitanti di Gerusalemme e della Giudea. più tardi al tempo di Artaserse alcuni funzionari tra i quali Bislam Mitridate e Tabe El inviarono al re un documento scritto in lingua e caratteri aramaici. Anche il governatore Recum e il segretario Simsai scrissero al re Artaserse una lettera contro Gerusalemme. La firmarono lo stesso governatore Recum il segretario Simsai e altri funzionari giudici controllori ispettori persiani in nome dei cittadini e lamiti originari di Uruk Babilonia e Susa e degli altri popoli che il grande e illustre Asnappar aveva deportati e fatti abitare nella città di Samaria e nel resto della regione a occidente del fiume Ofrate. Ecco il testo della lettera. Al re Altaserse da parte dei suoi sudditi abitanti della regione occidentale. Ti rendiamo noto che i rimpatriati giunti nelle nostre regioni dalla Mesopotamia stanno ricostruendo Gerusalemme città ribelle e malvagia rifanno le fondamenta e ricostruiscono le mura sappi che se essi riusciranno a ricostruire la città e a riedificare le mura non vorranno più pagare né tributi né tasse né imposte. In conclusione ne avrai tu stesso un danno. Ti facciamo sapere queste cose perché tutti noi abbiamo grandi debiti di riconoscenza nei tuoi confronti e non possiamo sopportare che tu venga offeso. Ti suggeriamo quindi di fare ricerche negli annali dei tuoi predecessori. Vedrai che si tratta di una città ribelle pericolosa per i re e per le province sempre pronta alla rivolta fin dai tempi antichi. Proprio per questo essa venne distrutta. Ti informiamo che se questa città verrà ricostruita e le sue mura terminate perderai presto ogni possedimento nella regione occidentale. Il re mandò questa risposta al governatore Re Koum al segretario Simpsai e agli altri funzionari che risiedono in Samaria e nelle altre località della regione occidentale. Pace a voi La lettera che mi avete mandato mi è stata letta in chiara traduzione Così ho dato ordine di fare ricerche Abbiamo trovato che effettivamente Gerusalemme si è ribellata fin dai tempi antichi contro i re e che in essa sono avvenuti disordine e rivolte. Questa città ha avuto re potenti che comandavano su tutta la regione occidentale Tributi tasse e imposte venivano pagati a loro Perciò date ordine a quegli uomini di sospendere i lavori di ricostruzione fino a nuove disposizioni Fate attenzione non trascurate nulla la situazione non deve peggiorare a danno del re Non appena la lettera del re Artaferse venne letta al governatore Recom al segretario Simpsai e agli altri funzionari questi si precipitarono a Gerusalemme e costrinsero con la forza delle armi i rimpatriati a interrompere i lavori L'opera di ricostruzione del tempio di Gerusalemme rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario re di Persia In quel tempo due profeti Ageo e Zaccaria figlio di Iddo si rivolsero ai rimpatriati di Gerusalemme e della Giudea esortandoli in nome del Dio di Israele e in seguito alle loro parole Zorobabele figlio di Sealtiel e Giosuè figlio di Iosadak si misero a ricostruire il tempio di Gerusalemme i profeti di Dio erano con loro e li incoraggiavano ma ben presto arrivò Tattenai governatore della regione occidentale accompagnato da Setar Bosnai e da altri funzionari domandarono chi vi ha dato il permesso di costruire questo tempio e ristaurare queste pareti chi sono e come si chiamano gli uomini che stanno costruendo questo edificio ma Dio proteggeva i capi dei rimpatriati infatti quei funzionari persiani non fecero interrompere i lavori mandarono al re Dario un rapporto sulla vicenda e decisero di aspettare la sua risposta definitiva Tattenai governatore della regione occidentale e Setar Bosnai e gli altri funzionari rimandarono al re questa lettera al re Dario ti auguriamo ogni bene ti informiamo che siamo andati nella provincia della Giudea e abbiamo visto che stanno ricostruendo il tempio del grande Dio con grandi blocchi di pietre e rinforzi di legno nelle pareti lavorano con cura e vanno avanti rapidamente allora abbiamo domandato ai responsabili chi vi ha dato il permesso di ricostruire questo tempio e restaurare queste pareti abbiamo anche chiesto i loro nomi per poter fare una lista dei loro capi e mandartela ci hanno risposto così noi adoriamo il Dio del cielo e della terra e stiamo ricostruendo il suo tempio molti anni fa un grande re di Israele lo aveva costruito e fornito di tutti gli arredi ma i nostri padri offesero il Dio del cielo allora Dio li abbandonò nelle mani di Nabucodonos il re di Babilonia della dinastia dei Caldei egli distrusse questo tempio e mandò il nostro popolo in esilio a Babilonia ma quando Ciro divenne re di Babilonia già nel suo primo anno di regno ordinò di ricostruire questo tempio inoltre restituì gli oggetti d'oro e d'argento che Nabucodonosor aveva preso dal tempio di Gerusalemme per portarli in quello di Babilonia Ciro li fece togliere di là e li consegnò a Sesbassar che aveva nominato governatore della Giudea gli ordinò di prendere questi oggetti di riportarli al tempio di Gerusalemme e fare in modo che la casa di Dio fosse ricostruita dove era prima allora Sebassar venne a Gerusalemme e cominciò a porre le fondamenta di quel tempio da allora lo stiamo costruendo ma non abbiamo ancora terminato fin qui la loro risposta ora ti proponiamo se sei d'accordo di fare ricerche negli archivi reali di Babilonia per vedere se veramente c'è un documento del re Ciro che autorizza la ricostruzione del tempio di Gerusalemme attendiamo tue istruzioni Dario allora ordinò di fare ricerche negli archivi reali di Babilonia di fatto a Ecbatana città fortificata della regione di Media si trovò un documento c'era scritto pro memoria nel suo primo anno di regno Ciro ordinò quanto segue a proposito del tempio di Gerusalemme l'edificio deve sorgere nel luogo dove si fanno i sacrifici sulle sue precedenti fondamenta misure da 27 metri in altezza e altre tanti in larghezza le pareti saranno costruite alternando tre strati di blocchi di pietra e uno di legno le spese saranno a carico della tesoreria reale inoltre gli oggetti d'oro e d'argento che Nabucodonosor fece togliere dal tempio di Gerusalemme e portare a Babilonia saranno restituiti al tempio di Gerusalemme e rimessi al loro posto nella casa di Dio allora Dario mandò queste istruzioni a Tatenai governatore della regione occidentale a Setar Bosnai e agli altri infunzionari tenetevi in disparte e non intralciate il lavoro di ricostruzione il governatore e i responsabili dei rimpatriati sono autorizzati a ricostruire il tempio dove era prima per quel che vi riguarda ecco come dovete comportarvi con i responsabili di quel popolo a proposito della ricostruzione del tempio le spese saranno coperte regolarmente e pagate con il denaro del re ricavato dalle tasse della regione occidentale in modo che il lavoro non subisca interruzioni ogni giorno senza eccezione saranno forniti secondo le decisioni dei sacerdoti di Gerusalemme tori montoni agnelli da offrire in sacrificio sull'altare del dio del cielo come pure frumento sale vino e olio così i sacerdoti potranno fare offerte gradite al dio del cielo per la vita del re e dei suoi figli ordino ancora se qualcuno non osserverà questo decreto si prenda una trave dalla sua casa la sidrizi ed egli vi sia impiccato la sua casa sia ridotta a un letamaio il dio che ha scelto Gerusalemme come luogo della sua presenza distrugga tutti i re e tutti i popoli non mi obbediranno e cercheranno di abbattere il suo tempio io Dario ho fatto questo decreto sia eseguito alla lettera allora Tettania governatore della regione occidentale Sear Bosnai e gli altri funzionari fecero esattamente ciò che il re Dario aveva comandato in tal modo i capi dei rimpatriati poterano proseguire con successo l'opera di ricostruzione sostenuti dalla parola del profeta Ageo e di Zaccaria figlio di Hildo Finalmente il 23 del mese di Adar del sesto anno del regno di Dario la ricostruzione del tempio fu condotta a termine secondo la volontà del Dio di Israele e gli ordini dei repersiani Ciro Dario e Artaserse tutti gli israeliti che erano ritornati dall'esilio gente del popolo sacerdoti e leviti celebrarono con gioia la dedicazione del tempio per l'occasione offrirono in sacrificio cento tori duecento arieti quattrocento agnelli e inoltre dodici capri uno per ogni tribù di Israele come sacrificio per il perdono dei peccati di tutto il popolo poi stabilirono i turni di servizio al tempio di Gerusalemme per i sacerdoti e i leviti come è scritto nella legge di Mosè i rimpatriati celebrarono la Pasqua il quattordici del primo mese dell'anno soltanto i sacerdoti e i leviti tutti insieme avevano compiuto i riti di purificazione così erano in condizione di preparare gli agnelli pasquali per gli altri rimpatriati per i sacerdoti i loro fratelli e per se stessi parteciparono dunque alla cena della Pasqua gli israeliti tornati dall'esilio con tutti gli altri che avevano abbandonato le religioni corrotte dei popoli vicini e si erano uniti a loro per rimanere fedeli al Signore Dio di Israele nei sette giorni seguenti celebrarono con gioia la festa dei panni non lievitati erano molto contenti perché il Signore aveva cambiato in loro favore l'atteggiamento del re di Assiria così si erano sentiti incoraggiati a ricostruire il Tempio del Dio di Israele molti anni dopo quando Alta Serser era re di Persia c'era a Babilonia un uomo che si chiamava Esdra era discendente del sommo sacerdote Aronne infatti Esdra era figlio di Seraia e questi erano i suoi antenati Azaria Kelchia Salum Zadok Akitub Amaria Azaria Meraiot Zerachia Uzzi Buki Abisua Finees Eleazzaro Aronne Era esperto era esperto nella legge di Mosè che il Signore Dio di Israele aveva dato al suo popolo Esdra decide di partire da Babilonia il Signore lo proteggeva così il re gli concesse tutto quello che gli chiese nel settimo anno di Arta Sers partì per tornare a Gerusalemme con un gruppo di israeliti sacerdoti leviti cantori portinai e addetti al Tempio era partito il primo giorno del primo mese e riuscì a raggiungere Gerusalemme il primo giorno del quinto mese dello stesso anno perché Dio lo proteggeva Esdra infatti aveva studiato con grande passione la legge del Signore la metteva in pratica e insegnava i suoi comandamenti e i suoi precetti al popolo di Israele il re Arta Sers consegnò una lettera ad Esdra sacerdote maestro della legge ed esperto nei comandamenti e nei precetti che il Signore aveva dato agli israeliti ecco il testo della lettera Arta Sers re dei re a Esdra sacerdote e maestro della legge del Dio del cielo queste sono le mie decisioni tutti gli israeliti compresi i sacerdoti e i leviti se desiderano tornare a Gerusalemme possono venire con te io e i miei sette consiglieri ti incarichiamo di verificare come viene osservata in Gerusalemme e in Giudea la legge del tuo Dio di cui sei esperto ti affidiamo inoltre l'argento e l'oro che io e i miei consiglieri abbiamo offerto volontariamente al Dio di Israele che si adora a Gerusalemme lo porterai insieme con l'argento e l'oro che riuscirai a raccogliere nel territorio babilonese e con i doni che il popolo e i sacerdoti vorranno offrire volontariamente per il tempio del loro Dio a Gerusalemme dovrai usare scrupolosamente questo denaro per comprare tori montoni agnelli oltre al pane e al vino da offrire sull'altare del tempio del vostro Dio a Gerusalemme si avanzerà oro e argento ne farai quello che sembrerà giusto a te e ai tuoi fratelli secondo la volontà del vostro Dio ti sono stati dati oggetti per il culto del tempio portali a Gerusalemme alla presenza del tuo Dio se avrai bisogno di altro per il tempio provvederai a spese della tesoreria reale ecco inoltre le disposizioni che io Arta Serse do a tutti i tesorieri della regione occidentale consegnate ad Esdra sacerdote maestro della legge del Dio del cielo tutto ciò che egli vi domanderà fino a un massimo di 3.400 chilogrammi di argento 100 quintali di grano 2.000 litri di vino 2.000 litri di olio e sale senza limitazioni eseguite diligentemente tutte le prescrizioni del Dio del cielo per il suo tempio altrimenti la sua ira potrebbe scatenarsi contro il regno il re e i suoi figli inoltre sappiate che tutti i sacerdoti leviti cantori portinaie addetti al tempio sono esenti da imposte e tributi e tu Esdra con la sapienza che Dio ti ha dato dovrai nominare magistrati e giudici incaricati di amministrare la giustizia a tutti gli abitanti della regione occidentale cioè a tutti coloro che conoscono la legge del tuo Dio a chi non la conosce la insegnerete voi chi non osserverà la legge di Dio e il decreto del re sarà immediatamente punito secondo i casi con la morte con l'esilio con multe o con il carcere benedetto il Signore Dio dei nostri padri egli ha messo nel cuore del re il desiderio di onorare il tempio del Signore a Gerusalemme egli mi ha fatto ottenere il favore del re dei suoi consiglieri e dei principi più influenti vedendo che Dio mi aiutava ho preso coraggio e ho radunato alcuni capi di Israele perché partissero con me questi sono i capi famiglia che partirono con me da Babilonia durante il regno di Arta Serse di ciascuno è scritto l'antenato che dà il nome alla famiglia Gershom dei discendenti di Fineès Daniele dei discendenti di Itamar Cattus figlio di Secania dei discendenti di Davide Zaccaria dei discendenti di Paros con lui sono stati registrati 150 uomini Elio Enai figlio di Zerachia dei discendenti di Pachat Moab con 200 uomini Secania figlio di Iacassiel dei discendenti di Zattu con 300 uomini Ebed figlio di Gionata dei discendenti di Adim con 50 uomini Isaia figlio di Atalia dei discendenti di Elam con 70 uomini Zebadia figlio di Michele dei discendenti di Setalia con 80 uomini Obadia figlio di Iechel dei discendenti di Ioab con 218 uomini Selomit figlio di Iosifia dei discendenti di Bani con 160 uomini Zaccaria figlio di Bebai dei discendenti di Debai con 28 uomini Giovanni figlio di Akatan dei discendenti di Asgad con 110 uomini Elifelet Yeiel e Semaia gli ultimi dei discendenti di Adonikam con 60 uomini Utai e Zaccur dei discendenti di Big Vai con 70 uomini Ho ho radunato tutti questi uomini presso il fiume che scorre verso la località di Ahava e siamo rimasti accampati là per tre giorni ho passato in rassegna il popolo e i sacerdoti ma non ho trovato nessun levita allora ho convocato alcuni capi Eliezer Ariel Semaia El Natan Yarib Natan Zaccaria Mesullam e due sapienti nella legge Yo Yarib e El Natan li ho mandati da Iddo capo del villaggio di Casifia con un messaggio per lui e per i fratelli che facevano parte degli addetti al tempio gli chiedevo di mandarmi alcuni uomini per il servizio del tempio del nostro Dio anche questa volta Dio ci ha aiutati infatti essi ci hanno mandato un israelita di buon senso il levita Serebia discendente di Macchi egli è venuto da noi con diciotto tra figli e fratelli sono venuti anche Casabia e Isaia discendenti di Merari con venti tra figli e fratelli infine ci hanno mandato duecentoventi addetti al tempio assegnati al servizio dei leviti fin dal tempo del re Davide tutti sono stati registrati con i loro nomi poi presso il fiume Aava ho proclamato un digiuno volevamo sottometterci al nostro Dio per chiedergli un viaggio felice per noi i nostri bambini e tutti i nostri beni infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata di cavalieri per difenderci dai nemici durante il viaggio anzi avevo detto il nostro Dio protegge quelli che lo servono mentre colpisce con la sua potenza e la sua collera quelli che si allontanano da lui ecco perché abbiamo digiunato e invocato il nostro Dio ed egli ha ascoltato la nostra preghiera poi ho scelto dodici tra i capi dei sacerdoti Serebia e Casabia con dieci altri leviti ho pesato davanti a loro l'argento l'oro e gli oggetti che il re con i suoi consiglieri e funzionari e gli israeliti residenti in Babilonia avevano offerto per il tempio del nostro Dio ho consegnato loro quasi 22 tonnellate d'argento 100 oggetti d'argento del peso complessivo di 70 kg 34 quintali di oro inoltre 20 coppe d'oro del peso complessivo di quasi 8 kg e mezzo e due oggetti di rame splendente preziosi come l'oro poi ho detto voi siete consacrati al Signore anche questi oggetti sono sacri e l'argento e l'oro sono offerte volontarie al Signore Dio dei nostri padri custoditeli con cura fino a quando non li avrete consegnati ai capi dei sacerdoti e dei leviti e ai capi famiglia di Israele nelle sale del tempio a Gerusalemme allora i sacerdoti e i leviti hanno preso in consegna l'argento l'oro e gli oggetti sacri per portarli a Gerusalemme nel tempio del nostro Dio il 12 del primo mese siamo partiti dal fiume Aava verso Gerusalemme il nostro Dio continuava a proteggerci lungo il cammino e ci ha liberati dagli attacchi dei nemici e dei briganti arrivati a Gerusalemme ci siamo riposati tre giorni il quarto giorno dopo aver pesato di nuovo l'argento l'oro e gli oggetti sacri li abbiamo consegnati nelle mani del sacerdote Maremot figlio di Uria con lui c'erano Eleazzaro figlio di Finees e i leviti Iosabad figlio di Josue e Noadia figlio di Binui essi hanno fatto un controllo accurato di tutto e hanno registrato subito il numero e il peso degli oggetti allora quelli che erano rimpatriati dall'esilio hanno offerto sacrifici al Dio di Israele 86 montoni 72 agnelli e 12 capri come sacrificio per il perdono dei peccati tutte queste offerte sono state bruciate sull'altare del Signore poi abbiamo consegnato la lettera con le disposizioni del Re ai funzionari reali e ai governatori della regione occidentale da allora questi ultimi hanno dato grandi aiuti al popolo e al Tempio qualche tempo dopo alcuni capi di Israele sono venuti a dirmi tutto il popolo compresi i sacerdoti e i leviti non ha saputo mantenersi separato dalle altre popolazioni cananei ittiti perizziti gebusei ammoniti moabiti egiziani amorrei e dalle loro deviazioni religiose essi e i loro figli hanno sposato donne straniere così il popolo di Dio si è compromesso con gli altri popoli i primi a commettere questa profanazione sono stati proprio i responsabili e i capi quando ho sentito queste cose sono rimasto sconvolto mi sono strappato le vesti e il mantello i capelli e la barba e mi sono seduto a terra addolorato allora tutti quelli che temevano il giudizio del Dio di Israele sull'infedeltà dei rimpatriati si sono radunati intorno a me io sono rimasto là abbattuto fino al sacrificio della sera giunta la sera all'ora del sacrificio ho interrotto il mio pianto e il mio silenzio mi sono rialzato con la veste e il mantello a brandelli mi sono messo in ginocchio e ho teso le mani verso il Signore mio Dio ho pregato così mio Dio mi vergogno troppo per alzare la faccia verso di Te perché i nostri peccati sono cresciuti fin sopra la nostra testa e la nostra colpa giunge fino al cielo dal tempo dei nostri padri fino ad oggi non abbiamo mai smesso di peccare per questo noi i nostri re i nostri sacerdoti siamo stati messi nelle mani di re stranieri costretti a subire la morte l'esilio la rapina e il disonore la stessa cosa accade anche oggi ma ora Signore nostro Dio ci hai concesso un momento di gioia hai fatto tornare una parte di noi dall'esilio e gli hai dato rifugio nel tuo luogo santo luce ai nostri occhi e sollievo alla nostra schiavitù è vero noi siamo schiavi ma tu non ci hai abbandonati nella nostra condizione ci hai procurato il favore dei re di Persia ci hai incoraggiati a restaurare le rovine del tuo tempio e a ricostruirlo e ci hai concesso rifugio in Gerusalemme e in Giudea a questo punto che cosa potremmo dire o nostro Dio abbiamo di nuovo disubbidito ai comandamenti che ci avevi dato per mezzo dei profeti tuoi servi essi ci avevano detto chiaramente la terra di cui state per prendere possesso è tutta corrotta i popoli che vi abitano l'hanno riempita delle loro disgustose malvagità per questo non dovete fare matrimoni con loro non cercate pace con quella gente non favorite i loro interessi così voi diventerete forti potrete godere dei frutti della terra e lasciarli in eredità ai vostri figli per sempre invece le nostre azioni malvagie e la nostra grave colpa ci hanno procurato tanto male eppure tu nostro Dio ci hai puniti meno di quanto meritavamo anzi ci hai permesso di raccogliere questo gruppo di superstiti ora potremmo calpestare di nuovo i tuoi comandamenti imparentandoci con questi popoli infedeli certamente tu rivolgeresti contro di noi la tua ira fino a distruggerci senza lasciar nessun superstite Signore Dio d'Israele tu sei fedele alla tua promessa e questo gruppo che rimane in vita ne è la prova eccoci davanti a te con tutte le nostre colpe anche se in queste condizioni nessuno potrebbe stare in tua presenza mentre es pregava e prostrato in lacrime davanti al tempio di Dio faceva questa confessione una gran folla di israeliti si radunò attorno a lui c'erano uomini donne e fanciulli tutti piangevano allora di mandare di mandare via tutte le donne straniere e i figli avuti da loro faremo come dici tu e come dicono quelli che rispettano i comandamenti del nostro Dio faremo quel che chiede la legge alzati perché sei tu che devi decidere noi ti appoggeremo fatti coraggio e agisci allora Esdra si alzò in piedi e fece giurare ai capi dei sacerdoti leviti e tutto Israele di agire così tutti giurarono quindi Esdra lasciò il tempio e si ricò a casa di Giovanni figlio di Elia Sib qui passò la notte non toccò cibo né bevanda perché era triste a causa dell'infedeltà dei rimpatriati dall'esilio in Gerusalemme e in Giudea venne comunicata a tutti i rimpatriati questa decisione degli anziani e dei capi dovevano radunarsi tutti a Gerusalemme entro tre giorni pena la confisca dei beni e l'espulsione dalla comunità tutti gli uomini delle tribù di Giudea e di Beniamino si radunarono a Gerusalemme entro il termine fissato era il 20 del nono mese tutto il popolo prese posto sul piazzale davanti al tempio la gente tremava sia perché la situazione era grave sia perché pioveva dirotto allora il sacerdote Esdra si alzò e prese la parola avete peccato avete sposato donne straniere così avete gravato la colpa di Israele ma ora riconoscete il vostro peccato davanti al Signore Dio dei nostri padri e fate la sua volontà separatevi dagli altri popoli e dalle loro donne tutta l'assemblea rispose ad alta voce è giusto dobbiamo fare come tu hai detto però qui siamo in molti ed è la stagione delle piogge non possiamo resistere a lungo all'aperto d'altra parte questo problema non può essere risolto in un giorno o due perché siamo in molti ad aver commesso questo peccato proponiamo di far rimanere i nostri capi in rappresentanza dell'intera assemblea poi in tempi da stabilire tutti coloro che hanno sposato donne straniere verranno qui accompagnati dagli anziani e dai giudici delle loro città così potremmo allontanare l'ira di Dio che abbiamo provocato con il nostro comportamento si opposero soltanto Jonathan figlio di Asael e Iakzeia figlio di Tikba appoggiati da Mesullam e dalle vita Sabetai gli altri rimpatriati fecero come era stato proposto il sacerdote Esdra scelse un rappresentante per ogni gruppo di famiglie discendenti dallo stesso antenato e indicò i loro nomi il primo giorno del decimo mese cominciarono le riunioni per esaminare la questione l'inchiesta su quelli che avevano sposato donne straniere ebbe termine il primo giorno del primo mese dell'anno seguente ecco l'elenco di quelli che avevano sposato donne straniere tra i sacerdoti Maaseia Eliezer Iarib e Godolia discendenti di Giosuè figli di Iosadac essi giurarono di mandare via le loro mogli riconobbero la loro colpa e offrirono un montone come sacrificio Canani e Zebadia discendenti di Imer Maaseia Elia Semaia Yechiel e Uzzia discendenti di Karim Elioenai Maaseia Ismaele Nataneele Iosabad ed Eleasa discendenti di Pascur tra i Leviti Iosabad Simei Kelaia detto il Kelita Petachia Giuda ed Eliezer tra i cantori Eliasib tra i portinai del Tempio Sallum Telem e Uri tra la gente del popolo Ramia Itzia Malchia Miamin Eleazzaro Malchia e Benaia discendenti di Paros Mattania Zaccaria Yechiel Abdi e Ieremet ed Elia discendenti di Elam Elioenai Eliasib Mattania Ieremot Zabad e Azizah discendenti di Zattu Giovanni Anania Zabai e Atlai discendenti di Bebai Mesuilam Mallu Adahia Yassub Seal e Ieremot discendenti di Bani Adna Kelal Binia Maaseia Mattania Besaliel Binui e Manasse discendenti di Pakat Moab Elia Elia Ezer Ishiya Malchia Semaiia Simeone Beniamino Malluc e Semaria discendenti di Karim Mattenai Mattata Zabad Elifelet Ieremai Ieremai Manasse Manasse e Simei discendenti di Khazum Maadai Amram Uel Benaia Bedia Kelu Vania Meremot Elia Elia Sib Mattenai Ia Sai discendenti di Bani Bani e Binui Simei Selemia Natan Adahia Maena De Bai Sasai Sarai Amareel Selemia Semaria Salum Amaria e Giuseppe Ieremia Mattitia Zabad Zebina Iaddai Gioele Benaia discendenti di Nebo Tutti costoro si erano sposati con donne straniere e alcune di esse avevano avuto figli di Nebo Grazie a tutti